Un intero paese della provincia di Padova ha assicurato contro furti e rapine, tutto a spese del comune perché l'idea è del sindaco. Organizzare ronde è complicato, la polizia non basta, la sicurezza ormai è solo un miraggio. E allora il comune cosa fa? Un'assicurazione per tutti i cittadini. A Selvazzano, 20.000 abitanti alle porte di Padova, la soluzione pronta è questa qui. Speriamo non servono l'assicurazione, però visto che c'è, meglio. Lei dovesse subire un furto, il comune paga i danni. Sarebbe una bella cosa, sarebbe una bella cosa. La casa svaliggiata, il furto, lo scippo, la rapina, un'emergenza quotidiana ormai. Se l'assicurazione non può risolvere il problema, almeno fa dormire sonni più tranquilli. Insomma, di questi tempi una bella garanzia per tutti. Certo, se il ladro gira largo molto meglio, ma dovesse malaguratamente capitare, il danno almeno in parte viene risarcito. Questa è una cosa meravigliosa, direi, ci dà più sicurezza e senz'altro ci tutela. Intorno ai 10.000 euro il costo totale della polizza. Non indennizza i furti, ma garantisce immediata assistenza per quel che riguarda i danni provocati all'abitazione o alla persona vittima dell'aggressione. Previsto pure l'invio di un artigiano per le riparazioni urgenti ed una guardia giurata in caso di necessità. Garantito anche il rifacimento immediato dei documenti sottratti, l'aiuto a domicilio di medici e infermieri, perfino ad uno psicologo dovesse servire. L'obiettivo, dice il sindaco Soranzo, che è anche presidente della giunta provinciale, è rendere più sicura la città. Se proprio non è possibile, che almeno i disagi per chi è costretto a subire siano limitati. Chiaramente non ci auguriamo che ci sia un furto in casa, ma sapere che c'è eventualmente un'assicurazione è un aiuto, quello senza dubbio.